Queste immagini sono state girate nel parco di Centocelle, nella zona est di Roma. Seguendo una strada che costeggia un impianto dell'aeronautica in disuso, ci si trova davanti uno spettacolo singolare, un'ampia gettata d'asfalto che lambisce automobili e parti di motori smontati, come se si volesse sotterrare questo materiale. Abbiamo contattato l'assessore all'ambiente del quinto municipio di Roma. Come municipio abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte di cittadini che abbiamo inoltrato al gruppo della polizia locale che sta facendo degli accertamenti e al gabinetto del sindaco all'ufficio per la sicurezza. Ma a lei non sembra anomala questa gettata d'asfalto all'interno del parco? Assolutamente sì, per questo noi ci aspettiamo di avere presto delle informazioni a riguardo. Devo dire che quella parte del parco, che non è ancora attrezzata a parco, è comunque oggetto anche di insediamenti informali e di vari tipi di attività e oltre la presenza anche dei rottamatori. Quindi sì, è una zona che va assolutamente osservata da vicino e monitorata anche per preservare nell'ottica della Costituzione del parco. Questa nuova discarica cittadina è quindi conosciuta. Ora non rimane che capire se verrà bonificata e se qualcuno andrà a vedere se c'è veramente qualcosa sotterrato da poco.